Miss Ragazza Fashion, un concorso nazionale, probabilmente l'unico che ha un patrono siciliano che è riuscito così 24 anni fa, forse anche qualcosina più, a inventarsi questa iniziativa, nata come? Inventata non direi perché già molto prima organizzavo dei concorsi molto importanti a livello nazionale figurate che questo concorso è nato anche grazie a Paolo Mosca perché facevamo prima di questo concorso qua Miss Eva Express poi Miss Ragazza VIP e poi è nato Miss Ragazza Fashion, tutto mio, quindi vedi quanto tempo ha, circa 35 anni però Miss Ragazza Fashion è da 24 anni, curato molto bene da uno staff molto valido perché sai, naturalmente senza un team di un certo livello non si va da nessuna parte Non è riuscito a portare ogni anno la finale a Roma, nella capitale, quindi già un impegno non indifferente Ma la capitale è la capitale, per cui è anche un mezzo per le ragazze che fanno la finale nazionale è un mezzo molto importante, una vetrina più che altro, molto importante Questa 24esima edizione, chi se l'è aggiudicata? Allora, quest'anno diciamo che è stato un boom pazzesco perché c'è stato tantissimi premi ma soprattutto di qualità perché inizialmente abbiamo avuto un colosso cinematografico ad Amantes di Milano che ha messo in palio tre borse di studio per tre ragazze finaliste per cui si sono aggiudicate questa borsa di studio, loro li formeranno e verranno inserite nelle loro produzioni, per cui tre ragazze sconosciute diventeranno veramente famose Invece il titolo proprio di Miss Ragazza Fashion a chi è andato? È una ragazza raziale, molto bella, che ha meritato il titolo infatti se io ho preferito di fare il mio concorso, cioè che dura 24 anni alla grande è perché nel mio concorso devi vincere chi merita cioè raccomandazioni, queste le lasciamo agli altri Si comincia già a lavorare per la venticinquessima edizione, insomma il tuo è un lavoro che va avanti per tutto l'anno, le iscrizioni, le varie fasi provinciali, locali, regionali? Già è tutto pronto, già si sa dove si farà la finale nazionale 2020 quindi questo prossimo anno siamo al centro di Roma Fortunatamente il mio presidente di giuria è un colosso, è una persona squisitissima che è la principessa con Nicaracciolo quindi ho alle spalle proprio lei che mi aiuta parecchio e per questo la ringrazio tantissimo per tutto quello che fa per il nostro concorso